Pietro, i risultati non contano in questi amichevoli, però conta mettere minuti nelle gambe, trovare i primi meccanismi di squadra che sono in questo momento le cose più importanti forse? L'importante è mettere minuti nelle gambe in questi amichevoli, ci prepariamo al meglio per la prima di Coppa e poi ci prepareremo per il campionato. Nel primo test amichevole hai fatto coppia con Pinzauti, quest'oggi con Infantino, sono attaccanti con caratteristiche differenti, come ti sei trovato? No, mi sto trovando bene con tutti gli attaccanti, poi pian piano che continueremo ad allenarci e giocare insieme l'intesa migliorerà ancora di più. C'è giunta voce che in ritiro si lavora parecchio, doppio seduto tutti i giorni non è facile. Se non si lavora in ritiro, quando si lavora? No, stiamo lavorando bene tutti quanti, l'importante è quello. A che punto è secondo te la preparazione di squadra e insomma anche l'affinità tra di voi? No, abbiamo iniziato da una decina, oggi è il decimo giorno, abbiamo fatto due amichevoli, siamo ancora un po' indietro di condizioni ma penso che sia la normalità. Quindi ci prepariamo ancora meglio per la prossima amichevole del 2 e poi si penserà alla Coppa Italia. E a voi inteso come attaccanti cosa chiede in particolare Tedino oltre ovviamente a trovare la via del gol? No, il mister, dobbiamo aiutarci, se non ci aiutiamo a vicenda, se giochi personalmente solamente pensando di far gol tu, di risolvere tu, allora ci sbagliamo. Il mister vuole che ci aiutiamo tutti e quando c'è l'amico in difficoltà dobbiamo essere pronti ad aiutarlo. Grazie a tutti.